Una cosa bella che mi piace ricordare di quello che ho visto oggi, un tuo suggerimento a Juarie che purtroppo non ha avuto l'esito desiderato. Ancora una volta questo testimonia che tra te e Juarie, quell'intesa di cui si è sempre parlato, esisteva ed esiste tuttora adesso? Sì, è sempre esistito l'accordo tra me e Giorgio perché quello che avete visto oggi gli ho dato una palla d'oro per far gol non è che io non gli voglio dare o lui non mi vuole dare, la gente quando è successo un po' di polemica mi ha dato tutto addosso a me, questo non mi è stato bene a me perché sentire la gente, la colpa è tua perché quello non va bene No, noi ci aiutiamo viceversa, io a lui, lui a me Tirando le somme di questa stagione ormai siamo alle battute finale Sei soddisfatto di quello che ti ha dato? Beh, io penso che quest'anno abbiamo fatto un buon campionato per l'Avellino No, Vito Chimenti Beh, io diciamo un campionato discreto, ho giocato solo tutta l'andata, adesso ho cominciato a giocare tre partite Io penso che se avevo un po' di fortuna qualche gol in più lo potevo anche avere